Monte Rossi-Campo Basso sarà la quarta gara consecutiva in serale dopo la Coppa Italia giocata a Grosseto alle prime due di campionato contro Avellino e Taranto. Il cerchio si chiude domenica sera a Viterbo. Il prossimo turno da giocare sotto i riflettori ci sarà a mercoledì 20 ottobre in trasferta a Torre del Greco. Match valido per la decima di campionato. Siamo alle prime battute di un lunghissimo torneo eppure i punti in palio allo Stadio Rocchi assumono una certa importanza. Non tanto per la classifica, piuttosto per il morale, in vista del proseguo della stagione. Lo step di crescita dei lupi passa proprio da queste gare, quelle contro le avversarie dirette per la salvezza. Il Campo Basso è una squadra giovane, lo dicono i numeri. La media età della Rosa-Rosso-Blu si attesta sui 23,2 anni, al pari del Messina e del Francavilla, società che a bilancio, almeno al momento, spendono oltre un milione di euro in più della società del patron Mario Gesue. Ebbene Campo Basso, Messina e Francavilla hanno le rose più giovani del campionato per età media, seguite dal Latina, dal Monopoli e proprio dal Monterosi. Sono dati numerici che non fanno la classifica, ovvio, ma ci danno una dimensione importante per analizzare la stagione a 360 gradi. Parlando del campo, mister Cudini valuta il sostituto di Fabriani e altri correttivi rispetto alla formazione che ha affrontato il Taranto. In difesa, al posto del terzino squalificato per tre giornate, il tecnico marchigiano ha diverse opzioni. Puntare sul giovane molisano Martino, il sostituto naturale di Fabriani, oppure adattare qualche altro elemento. Difficile l'utilizzo in quel ruolo di Candellori, difficilmente Cudini rinuncerà alle sue prestazioni in mezzo al campo. Si candidano per una maglia da titolare, quindi pace, mancino, ma con propensione a giocare su entrambe le fasce, e sbardella. Centrali Dalmazzi e Menna, a sinistra Vanzan. In mediana, ballottaggio giunta a Tengorang con il secondo favorito, anche per il discorso minutaggio. Soprattutto se Cudini utilizzerà un senior in più in difesa. I veri dubbi sono nel reparto offensivo. Curiosità sul tridente, la sensazione è che Rossetti e Liguori saranno in campo dal primo minuto. Parigi e Mauso e Di Francesco sono in lizza per la terza maglia. Una situazione destinata a riproporsi durante tutta la stagione. Al momento è difficile parlare di gerarchie o di titolari. Sono tutti sul banco di prova. L'ingresso a gara in corso è senza dubbio un altro elemento decisivo. Nell'epoca delle cinque sostituzioni, gli allenatori possono decidere la strategia migliore. Anche il giovanissimo Vitali, classe 2002, rientra in questo discorso. Un ragazzo valido che sta prendendo confidenza con il salto di categoria e che potrà dare il suo contributo alla causa.